Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale La voce più attenzione per il decoro e la sicurezza del quartiere Domani a Fano arriva il ministro dei beni culturali Bonisoli Si parlerà di Lisippo Settimana Santa questa mattina in cattedrale a Fano Messa a Crismale con il vescovo Armando Trasanti Buonasera, benvenuti a Occhio alla Notizia La cronaca in apertura come di consueto Andiamo ad Orciano di Pesaro Dove il 16 aprile, martedì scorso Durante un normale servizio di controllo I carabinieri di terra roveresche Hanno individuato un 33enne del posto Insospettabile e incensurato Con addosso, debitamente nascoste nelle parti intime Due involguri contenenti cocaina purissima Il 33enne si trovava a bordo di un'auto Fermata dalla pattuglia dei militari Assieme ad altri due coetani Tutti poi identificati Ma al momento del controllo dei documenti Lui era l'unico a mostrarsi innervosito E sudava copiosamente Cosa che ha messo in allerta i due carabinieri Che hanno eseguito subito i controlli più approfonditi Scoprendo così lo stupefacente Controlli poi che si sono anche estesi all'abitazione dell'uomo Dove i militari hanno rinvenuto Altra cocaina occultata in un barattolo Per il riso unitamente ad un bilancino di precisione E materiale per il confezionamento delle dosi Il 33enne è stato condotto in caserma Ed arrestato per detenzione Ai fini di spaccio di stupefacente Dopodiché per lui si sono aperte Le porte del carcere di Villa Fastigi a Pesaro Ad oggi, dopo la convaia dell'arresto È stato rimesso in libertà Con l'obbligo però di presentazione Al comando carabinieri competente Ancora cronaca ma di altro genere L'altra notte attorno a Luna Carrara di Fano Per cause ancora da accertare Si sono sviluppate delle fiamme In un garage adiacente a un'abitazione Lungo la Flaminia A dare l'allarme al 115 Lo stesso proprietario che dalla sua finestra Ha visto il fumo fuori uscire dal suo garage Preoccupato anche per la presenza Della sua auto alimentata a GPL Ha subito allertato i Vigili del Fuoco Che sono arrivati di lì a poco Ma fortunatamente l'auto non si trovava in quel box Era in quello accanto E si è così salvata Diversamente invece per le altre masserizie Presenti nel box Invaso dalle fiamme E andate completamente distrutte All'arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco di Fano Le fiamme, oltre alla copertura del garage Avevano divorato tutto il suo contenuto Tra cui uno scooter, un'ape Ed alcuni utensili da lavoro Ed una lavatrice Sulle cause dell'incendio Del tutto accidentali Si protende per un cortocircuito In quanto i mezzi presenti Non erano stati messi in moto di recente E adesso spostiamoci Grazie alle vostre segnalazioni In un quartiere Un quartiere residenziale di Fano Un quartiere delle Zavarise Dove una cinquantina di residenti Hanno fatto una raccolta di firme E chiedono all'amministrazione comunale Più attenzione per il decoro E la sicurezza delle loro strade Sentiamo 45 residenti del quartiere Zavarise Nel cuore di Fano A pochi passi dall'ospedale Santa Croce Hanno raccolto, sottoscritto ed indirizzato Ai quattro candidati a sindaco E dalle redazioni locali di stampa e media Una petizione per chiedere maggior attenzione A questa parte di Fano A dire il vero La maggior parte dei residenti Si trova su Viale Cesare Rossi 29 E su Via Nini 9 Ma anche residenti di Via Veneto Via Giulini e Via Gabrielli La questione che prongono Ai futuri amministratori È il decoro L'ordine e la pulizia della zona Che a loro dire È fortemente compromessa Ed hanno deciso di lanciare Un grido di dolore Proprio perché hanno a cuore La bellezza della città di Fano Il dito lo puntano Contro una sosta selvaggia E la soffocante morsa delle auto Che proprio in presenza Della piazzetta antistante La chiesa neogotica Palazzi Zavarise All'incrocio tra Via Giulini E Via Le Rossi Raggiunge il suo apice Complice anche Una giunga Di ben nove cartelli Di segnaletica verticale Tutti piantati A pochi metri di distanza È necessario Un parcheggio A pagamento Con le strisce blu Se viene a trovarsi Una persona Un artigiano O il dottore Bisogna fare il vigile urbano Per lasciare il posto macchina E farlo entrare in casa Insomma È una situazione Incresciosa Vediamo che Le cose vanno indietro E non vanno avanti E questa amministrazione Per noi non ha fatto niente Rivolgono quindi Un appello Proprio ora Che il livello di ascolto Della politica È al massimo Ai quattro candidati Per esprimersi pubblicamente A questo riguardo Lamentando Una mancanza assoluta Di riguardi Fino ad ora Per questo Salotto buono Della città Se si esclude L'intervento di asfaltatura E di risistemazione Degli stalli In Viale Mariotti Inoltre vorrebbero Che fosse migliorata La fruibilità Da parte delle persone anziane Ma non solo Delle banchine laterali Che per sporco Ed erbacce Oltre che a trasformarsi In veri e propri acquitrini In caso di pioggia abbondanti Diventa impossibile E la piazzetta Liberata Dall'assedio delle auto Servirebbero anche I contenitori Per gli escrementi Degli animali Ed ultima Ma non ultima La creazione Di una pista ciclabile In sicurezza Su Viale Cesare Rossi Unica via Ormai del quartiere Rimasta sprovvista Ed è stata presentata ieri Una scuola di formazione Tutta dedicata Al personale Delle piccole E micro Imprese del territorio Con la collaborazione Dell'Università di Urbino Che metterà i docenti E la Regione Marche Che invece Ci metterà i finanziamenti Sentiamo Nella sede di Economia Di Fano In Via Arco Da Augusto II Si è tenuta La presentazione Della prima Summer School La gestione finanziaria Delle micro imprese Organizzata dal Dipartimento Di Economia Società E politica E rivolta Ad imprenditori Responsabili O addetti Alla funzione Amministrativa E finanziaria Che ha la prerogativa Di affinare E migliorare Le competenze In materia Di gestione Finanziaria Delle imprese Minori Noi faremo Questo tipo Di corso A partire Dal 2 di maggio Nella sede Di Fano In Via Arco D'Augusto E' un corso Che avrà Sia Un taglio teorico Ma anche Un taglio pratico Benvengano Iniziative Come queste Che vanno incontro Alle imprese Ha aggiunto Tommaso Di Sante Presidente Coldiretti E membro E esecutivo Della Camera Di Commercio Delle Marche Presente all'incontro E che ha sottolineato Che accoglieremo In tutti i modi Queste idee Anche economicamente Investendo in bandi Formativi Di competenza Manageriale Come questo corso Le piccole E micro imprese Dove il più delle volte Troviamo una conduzione Familiare Non possono permettersi L'assunzione Di dirigenti specializzati In grado di dialogare Con istituti di credito A giorno d'oggi Invece le banche Richiedono Un'analisi Del fabbisogno Finanziario Dettagliata Particolare Dove le imprese Di questo tipo Solitamente Si incagliano Ha affermato questo Il consigliere Mirko Carloni Che ha contribuito Alla stesura Del progetto E in rappresentanza Anche della regione Marche Che finanzierà L'operazione Con 25 mila euro Questo corso Si propone Con molta semplicità Di dare Una serie di competenze Di una formazione vera Di carattere universitario Che è curata Ovviamente Dai docenti universitari E che può dare Come opportunità A chi Ne è interessato Quelle competenze Di gestione Tecnico-finanziaria Della impresa Quindi sarà Una summer school Che in altri contesti Regionali Costano davvero tanto Per chi vuole partecipare Con il contributo Della regione Sarà gratuito Le adesioni Maximo 25 persone Fino ad esaurimento Posti Saranno accettate Fino al 29 di aprile Per le iscrizioni È possibile visitare La sezione Studia con noi Al sito www.uniurb.it E domani a Fano Orgoglio Ci vedremo Ci vedremo quindi Per questa chiacchierata Pubblica Insieme al Ministro In Sala Verdi Presso il Teatro Della Fortuna In Piazza 20 Settembre Alle ore 17 Con lui naturalmente Parleremo di tanti Temi culturali Anche per il rilancio Culturale Della nostra città Ma soprattutto Ci soffermeremo Sulla questione Dell'Isippo E la questione Del teatro romano Ecco il Ministro È venuto alle cronache Proprio sulla questione L'Isippo Facendo un po' Un filtro Con il Getty Museum Quindi immagino Che per i fanesi Sia un momento Di fargli Qualche domanda Anche diretta Esattamente Domani Oltre a parlare Un pochino Come candidata Sindaca Del programma Culturale Per la città Ho in serbo Una serie di domande Per il Ministro E spero di avere Delle risposte Più che soddisfacenti Per tutti noi Cittadini fanesi Bene Ed ora veniamo Alle celebrazioni Della Settimana Santa Quella che stiamo attraversando È la Settimana Santa È detta anche Grande Settimana Ed ha avuto inizio Con la Domenica delle Palme E si conclude Con il Triduo Pasquale Oggi Il giovedì Della Settimana Santa È l'ultimo Della Quaresima La Chiesa celebra Il giovedì Della Cena del Signore E ricorda Sia l'istituzione Dell'Eucarestia E del Sacerdozio Il giovedì santo È caratterizzato Dalla Messa del Crisma E dalla Messa Della Cena del Signore La Messa del Crisma È la celebrazione Eucaristica Presieduta dal Vescovo Nella Cattedrale Della Diocesi Insieme al suo presbiterio E a tutto il popolo A lui affidato Tale celebrazione Vuole esprimere Visibilmente L'unità della Chiesa Locale Raccolta Intorno al proprio Vescovo Questa mattina Alle 10 Il Vescovo Armando Trasarti Ha fatto ingresso Quindi in Cattedrale Seguito dai Sacerdoti Per la celebrazione Della Messa Crismale Cerimonia Durante la quale Trasarti Ha espresso innanzitutto Un sentito grazie Al collegio episcopale Un grazie ai preti Per tutto quello Che riescono a fare Anche a fine sacerdozio Perché citando Le parole di Papa Francesco Dice Un prete Non va mai in pensione Si può raccontare Dio a 80 90 anni Ed anche oltre Ma il Vescovo Chiede anche scusa Per non essere sempre presente Ed attivo Come vorrebbe Anche perché L'atto di fede dice Va rinnovato Continuamente Poi nel messaggio Rivolto ai sacerdoti Li invita a ricercare In queste giornate L'intimità spirituale Perché solo l'intimità Con lo spirito Salva il nostro ministero Dice il Vescovo Dai rischi A cui è esposto Come il protagonismo O quello di diventare Dei burocrati Del sacro O della disillusione La giornata poi Si è conclusa alle 18 Con la messa In cena domini Domani invece Venerdì santo Monsignor Tasarti Sarà in cattedrale Alle 8 Per le Lodi E alle 14 A San Pio X Per la via Crucis Sempre alle 18 In cattedrale Per la celebrazione Della passione di Cristo Sabato alle 22 Invece Veglia Pasquale Ed i battesimi Degli adulti Domenica di Pasqua Il Vescovo Alle 11 In cattedrale Presiederà La solenne pontificale E a Saltara Domani Venerdì santo Si tiene Una emozionante Coinvolgente Via Crucis Nei vicoli Del paese Ce ne parla Proprio Il presidente Della Proloco Si Ormai sono 40 anni Che il venerdì santo Tutte le sere Tutto il venerdì santo C'è la manifestazione Della rievocazione Di Cristo morto Tanti figuranti Non soltanto Un passaggio religioso Ma anche Un momento Di comunità È un binomio Tra religione E tradizione 240 figuranti E oltre Rappresentano Il corteo itinerante Nel frattempo Lungo il percorso Vengono inscenate Le scene Della Via Dolorosa Sono 11 Quest'anno Sono 11 scene Lungo il percorso Quindi consigliamo Coloro che hanno piacere Di venire a saltare Anche di seguire Tutto il percorso Per rendersi conto Di come È tutto il complesso Della manifestazione A che ora Inizierà questo evento? Il corteo itinerante Inizia E comincia A sfilare Verso Alle 21 e 30 Tutto si terminerà Alle 11 Intorno alle 11 Effettivamente È un corteo Che 240 figuranti Come dicevo Che prende Uno spazio Non indifferente Quindi tutte le vie Del paese Con un percorso Ben preciso Sarà ampiamente Occupato Da questa sfilata È un misto Di Diciamo C'è un'atmosfera Particolare Le luci soffuse Le luci delle fiaccole Diciamo Il silenzio Il misto Tra Come dicevo Religiosità E tradizione Fanno sì Che saltare È veramente Il venerdì santo Saltare È veramente Un momento Da vedere E anche Da ricordare E prima di chiudere Vediamo un'ultima ora C'è stato un incidente Stradale Poco dopo Alle 18 e 30 Siamo lungo La strada provinciale 424 All'altezza del chilometro 21 Nei pressi di San Lorenzo In campo Coinvolti Un autobus Della linea 35 E un ciclista Un ciclista Non un ciclista Cicloturista Proprio un uomo Che probabilmente Rientrava a casa Dopo il lavoro In bicicletta Un trentenne Trentenne È rimasto Quasi sempre Cosciente È stato caricato Nell'ambulanza È portato Dal 118 Al pronto soccorso Di Fano Entrambi I mezzi Quindi sia L'autobus Che il ciclista Procedevano Nello stesso Senso di marcia Ovvero sia Pergola Marotta Bene Dopo quest'ultima ora Vi ricordo che A seguire Questa edizione Del telegiornale Ci sarà un approfondimento Di stampo politico Con una delle candidate A sindaco Di Fano Per le prossime Amministrative Ovvero sia Marta Ruggeri Grazie Per essere stati In nostra compagnia Quello che vedete È il numero Come sempre In sovraimpressione Per entrare in contatto Con la nostra redazione Grazie E buona serata A tutti voi